amici dello sportello del cittadino ci ritroviamo a taranto nel borgo antico nella città vecchia in piazza fontana e stiamo assistendo ad una stranezza ad un mostro da un lato le chianche le mitiche le storiche chianche e dall'altro giusto per rappezzare altri sprofondamenti l'asfalto scusate ma cosa è il vestito di arlecchino un po' le chianche e un po' l'asfalto un po' l'asfalto e un po' le chianche insomma non credo che siano lavori pubblici degni di un borgo antico che vuole rinascere che vuole riqualificarsi assessore Lonuce assessore ai lavori pubblici lo dico a lei perché detiene la delega al ramo è stata una scelta infelice poniamo rimedio perché assessore Lonuce è rare umano ma perseverare diabolico che scempio che cosa orrenda chianche e asfalto ma non è finita qui per piazza fontana guardate è proprio per non farci mancare nulla le chianche un altro tipo di pavimentazione differente una sorta di marmetto non sono un tecnico completamente sprofondato che ora non regge guardate qui si è creato un mosaico un puzzle certo povera povera piazza fontana davvero è diventato l'abito di arlecchino amministrazione comunale per cortesia intervenga